Ragazzi sono Piotro Spambinato e lui è? Gix Francesco Gix Francesco Cerca di parlare più forte Sì ma poi non c'è un cacchio Sì vabbè E allora non parlare Allora alla fine video vorremmo vedere La mia schiena e la questa Sì Sì Con queste Mi metto rosa Ragazzi ho ripreso Io rompo le cazzole come prima facciamo Come primo con la m No dai Stavolta però se mi laghi muoio Non mi lagga Scappa Che fai Allora Iniziamo Insomma è buono La connessione fa schiena Ahahahah Vieni Francesco Andiamo Ma se avevamo 20 povera Scappa perché c'è Franco Scappa di se Francesco scappiamo 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 Francesco Giriamo Ma dove te vai Seguimi Tutto dritto Tutto dritto Vabbè Tu te ne hai svolti di là Perché hai richiamato Appamma Come non stiamo morendo Perché l'ho detto Ora moriamo Ora moriamo A meno se arriviamo a due squadre Me ne approfittano No me ne approfittano Ma a meno Faremo meglio Ma manca più sette E che sto facendo E che Perchè Più tre Più tre A me più due Uè Io non ne ho manco mezza Mi metto rosa Che è più forte E' rosy Ok It's my game Hello 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 Inga liberti Siamo in terrazzo Quindi inutile che Dite cose Siamo in terrazzo Vai allora Facciamo sto combo Tu attacchi E io prendo le casse Come facciamo con il primo Tu attacchi E io prendo le casse Magari se prendevi più Casse vincevi vero No non ci vado io là Lo prendo io Ma non ci penso nemmeno Cangelo dove sei? Io morto Mortati Ottobit Che schifo Ottobit Che schifo Ottobit che fai Aspettate che lo stavano E poi ce l'abbiamo più Che schifo Ottobit Che schifo Ottobit Combino Ragazzi mi fa registrare Ma non mi sparo No a me più 4 Riprendiamo raga Facciamo le ultime due partite Stacco il video ok Allora partiamo Allora tu rompi delle casse Io rompo pure Non mi seguire Non mi seguire a me Perché nel mentre che tu segui a me Posso seguire pure a te Vabbè Vabbè Perchè l'ha chiedernato di merda Francesco aiuto Scappa Scappa Francesco L'ultima partita ci dobbiamo far Aspettando a te che metti pronto Aspettando a te che metti pronto Vabbè Ce l'hai a Mortis Inghia ma non è a nessuno Mi metto stecca Mi metto Shelly Mi metto No L'ho fatta vedere Ragazzi scusate se ve l'ho fatta vedere In mezzo pezzo Ma poi ve ne faremo vedere meglio Con quella che è qui Ma la mia La mia Non l'hanno vista per culo Ma avranno visto solo qualcosina Che non posso dire L'ultima partita ci dobbiamo fare Dopo di questo All'ultimo i due Se non larga l'ultimo Se larga l'ultimo Almeno mi larga Almeno mi larga Ora no Ora si Quando odio Quando larga tu Però perché Scegli Però se dici che sta Compa è buona Wow Che culo Mongo mi ha sparato L'hai visto Wow Meglio così Abbiamo Ho sgavitato vita Seguimi ciccio Se viene qua Lo sai che ci conviniamo in faccia A me mi sta togliendo la vita Perché mi ha dato il veleno Vieni Vieni bastardo Un po' di zine piper No 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 Andiamo Appena arriviamo A due squadre Attacco che sto facendo a creare chi mi nasconde vabbè qua c'è l'osso grazie io sono morto seconda buona posizione meglio della terza ragazzi il video finisce qui vi faremo vedere solo una piccola stagina delle skin ragazzi il momento più epico le nostre skin la gira di dietro è la sua spero che vi piace se vi piace mi scrivete nei commenti si mi piace pure il suo di questa questa non è male sì 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 io un attimo devo vedere una cosa no no posso fare che un attimo ti invito e ti rimetto no va bene ragazzi spero che il film vi sia piaciuto lasciate like commentate se dovrei portare altri video con ci francesco saluta francesco ciao ciao ragazzi il video finisce qua per il prossimo video arriviamo a 10 e 50 like ciao ragazzi ciao 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 ciao